bella ragazzi bentornati e bentornati soprattutto a me io volevo dire in questo piccolo video che inizierò a streamare su twitch il mio nome fabio zacca normale tutto attaccato e se viva andatevi a iscrivere poi in caso mi vedete a guardare comunque le ricordarvi che sono entrati in un team white team molto forte è molto il team che cercavo io diciamo vabbè allora ci vediamo su twitch bella raga ciao